aiuto c'è qualcuno perché c'è qualcuno uccio c'è qualcuno uccio sono dio ti ho ascoltato e ti salverò grazie dio lanciati nel vuoto i miei angeli ti prenderanno a volo c'è qualcun altro amore che c'è senti aspetto un bambino da quanto da tre mesi secondo me non viene più guarda se mi dessero un euro ogni volta che ti penso forse ti penserei domani che fai domani vado a madrid madrid ci ho messo due tre volte non è che la vedi in un giorno madrid io vado a vedere una mossa d'arte dove sta l'arte sto io penso io adoro vedere da lì per forza cioè se la mossa sta lì non è che la puoi vedere da qui per forza devi andare da lì hai capito io adoro vedere da lì sì perché se stai qui non riesci a vedere devi andare da lì senta noi avremmo una curiosità volevamo sapere in questo paese sono nati grandi uomini diciamo che in questo paese sono nati i bambini più che nascono bambini scusi signore scusi tutte quelle nocelle non le faranno male mio nonno ha vissuto sino all'età di 95 anni mangiava anche lui le nocelle si faceva i cazzi suoi bambini qualcos'altro ho preso il cartongesso un metro quadro ah sì 36 euro 36? salda la promozione? no che promozione? con 10 euro in più c'è gratis una sega la vuole? sono sposato io vabbè ma al massimo faccio un buono momento di solitudine momento di solitudine